Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, controlli della Guardia di Finanza di Arezzo, volti a verificare la correttezza dei crediti d'imposta finanziati anche con fondi PNRR. 440.000 euro di crediti d'imposta non dovuti, finanziati anche dal PNRR. Nel mirino della Guardia di Finanza di Arezzo sono così finite aziende e negozi. Alla base dei riscontri ci sono state mancanze di presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dalla legge. In particolare i finanzieri del nucleo economico-finanziaria hanno focalizzato la loro attenzione sui crediti d'imposta derivanti dagli investimenti in beni strumentali nuovi, rilevando tre irregolarità nei confronti di altrettante RSA, aziende Orofe e nel trasporto merci, che hanno utilizzato indebitamente in compensazione crediti d'imposta in misura superiore a uno spettanti per oltre 63.000 euro. Scoperte anche altre due imprese, una si occupa di produzione di spezie, l'altra di fabbricazione di carte e cartone, che hanno usufruito negli anni dal 2020 al 2022 di crediti d'imposta inesistenti per circa 182.000 euro. Casi anche nelle vallate aretine, a poppe irregolarità riscontrate nei confronti di un'impresa edile e di un'attività commerciale, ed infine invaldarono a San Giovanni in un negozio che aveva indebitamente compensato crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali per oltre 115.000 euro. L'attività ha già provveduto a sanare la sua posizione. Tutti i casi sono stati segnalati all'Agenzia delle Entrate che procederà al recupero delle somme dovute. Complessivamente ad oggi è di 4 milioni e mezzo l'ammontare di crediti d'imposta finiti sotto la lente di ingrandimento dei finanzieri aretini. I carabinieri di Sansepolcro invece hanno arrestato quattro uomini che avrebbero messo a segno numerosi furti in esercizi commerciali della Valtiberina. Sono partiti da Napoli a bordo di un'utilitaria per mettere a segno colpi in Valtiberina dove però i militari li hanno sorpresi con un bagagliaio pieno zeppo di profumi, creme medicinali e paste adesive per le dentiere. Un bottino da circa 10.000 euro sottratto dagli scaffali di più supermercati. In manette a Sansepolcro sono finite così quattro persone, tutte senza fissa dimora e di origini straniere. Fondamentale ancora una volta la video sorveglianza urbana con il rilevamento delle targhe che ha consentito di individuare l'auto sospetta ricercandola per diverse ore fino a quando è stata trovata parcheggiata davanti a un noto centro commerciale di Sansepolcro. All'interno erano presenti due uomini fermi evidentemente in attesa. L'attenta osservazione dei militari ha poi fatto il resto. Altri due uomini sono usciti dal centro commerciale con un grosso zaino in spalla e una volta arrivati all'auto l'hanno svuotato nel bagagliaio, visibilmente al ricolmo di moltissimi altri prodotti per la Cosmesi. Troppi e sospetti per degli acquisti natalizi, da lì sono scattati i controlli. Dalla perquisizione sono saltate fuori decine di prodotti per la cura della persona. I quattro non sono stati in grado di giustificare la presenza della merce né tanto meno di esibire alcun titolo di acquisto. Tutta la refurtiva è stata così sequestrata in attesa di ricostruirne la provenienza per la successiva restituzione agli aventi diritto. A Castiglion Fiorentino i carabinieri hanno arrestato tre persone trovate con la refurtiva di un furto in auto. I tre, a bordo di una vettura noleggiata nel nord Italia, sono stati fermati dai militari che hanno trovato all'interno alcuni oggetti rubati altrove. Da accertamenti è stato notato che erano stati responsabili di un furto in un parcheggio della zona dove hanno distratto una persona anziana per rubarle la borsa, al cui interno erano presenti denaro, carte e un cellulare per un importo di circa 400 euro. E ancora cronaca, a strada in Casentino, le lavagne della scuola elementare sono state imbrattate con simboli del nazismo e bestemmie. L'episodio risale a domenica scorsa, mentre in paese era in corso la tradizionale festa paesana della Fiera dell'Albero. I gnoti si sarebbero introdotti all'interno della scuola trovando una porta rimasta aperta. Un gesto brutto e grave condannato dal sindaco di Castel San Niccolo Antonio Fani. Si tratta probabilmente di una ragazzata commentato, resta però la gravità di un comportamento inaccettabile. E' stato invece hackerato il profilo di nonna Natalina, la star a retina di TikTok. Vediamo il servizio. Sto preparando lo struder di mele. Un riscatto di 1000 euro per restituire il profilo a nonna Natalina, star di TikTok, che con le sue ricette online conta oltre 100.000 follower. E' la richiesta avanzata dagli hacker a Natalina Moroni, 80enne di Sansepolcro, che è stata anche nominata a Firenze ambasciatrice delle tradizioni italiane. A scoprire il furto di identità e la richiesta di riscatto è stato il nipote della donna, che ha denunciato il fatto alla polizia postale e anche via TikTok. Un successo nato per caso quello di nonna Natalina. Il nipote l'aveva infatti ripresa mentre cucinava, aveva poi postato il video, diventato subito virale. Da lì il profilo e il successo. Nonna Natalina, mattarello alla mano, realizza e spiega ricette toscane ripresa dal nipote Luca Mercati, visualizzate da centinaia di migliaia di utenti italiani e non solo. Nonna e nipote però adesso hanno deciso di non cedere al ricatto. Ieri sono andato a controllare il profilo e ho scoperto che non era più visibile, racconta il nipote. Poi mi è arrivata la richiesta di riscatto e siamo andati a denunciare. Adesso si attende che gli esperti della polizia postale eseguano tutti gli accertamenti per individuare gli hacker e restituire a nonna Natalina il suo seguitissimo account. I strudi sono pronti per il forno. Ora li mettiamo a cuocere a 180 gradi. È finita la disavventura del camionista arrivato dalla Lettonia che con il suo tirrazziera ha renato in una stradina di campagna alla periferia di Arezzo. L'uomo per quattro giorni non ha mai voluto abbandonare la cabina del suo auto articolato per non perderlo di vista, vivendo della solidarietà degli abitanti della zona che lo hanno rifocillato. Oggi finalmente il tirra è stato rimesso in carreggiata dai vigili del fuoco e il camionista ha potuto far ritorno in Lettonia. Voltiamo pagina per parlare di sanità. Oggi è stato il giorno dello sciopero dei medici e degli infermieri, alta l'adesione anche da Arezzo. Medici, dirigenti sanitari, infermieri ed ostetriche incrociano le braccia per la prima volta tutti assieme per 24 ore contro la legge di bilancio e le adesioni hanno già raggiunto l'85%. A renderlo noto sono i sindacati che hanno proclamato la protesta CIMU-FESMED, il maggiore sindacato degli ospedali, ANAO-AZOMED, e il sindacato degli infermieri, NURSINGAP. Lo sciopero è scattato alla mezzanotte del 5 dicembre, un milione e mezzo a livello nazionale e le prestazioni sanitarie che rischiano di saltare. La principale ragione della protesta è da ricercare nel taglio delle pensioni per la categoria previsto dalla manovra, ma a far storcere il naso e tutto l'impianto della legge di bilancio fortemente criticata dalle categorie. Vicinanza a tutti i sanitari scesi oggi in piazza arriva anche da OPI l'ordine delle professioni infermieristiche. Chiaramente tutti i colleghi che hanno avuto delle promesse durante il periodo pandemico e oggi si vedono nuovamente messi in difficoltà dagli stessi che hanno dato degli eroi a queste persone, è chiaro che oggi c'è necessità di avere un riscontro più fattivo. Assunzioni, aumento di stipendio e più risorse, le principali richieste. In particolar modo il riconoscimento economico, non è possibile avere delle false aspettative rispetto a quelle che sono le promesse fatte durante il periodo pandemico e oggi invece avere tutt'altro. La carenza personale è sotto gli occhi di tutti. In Toscana in particolar modo si fa una stima, quella della Federazione Nazionale che parla di 3.360 infermieri carenti in questo momento nel sistema sanitario regionale toscana. È chiaro che i numeri sono molto più alti rispetto a quelle che sono delle stime. Però già partita da quelli è un bel segnale. Ancora a Sanità è in corso attualmente la campagna di vaccinazione contro il Covid e l'influenza. Il numero non è soddisfacente, soprattutto della vaccinazione del Covid. È un po' meglio, sta andando l'influenza, però il Covid siamo a numeri ancora molto bassi. e quindi l'invito è rivolto a tutti, a tutta la popolazione dai sei mesi in poi per fare questo vaccino. Perché è importante tutelare la propria salute e tutelare anche quella delle persone che ci stanno vicino, che sono più fragili, più soggette a complicanze. È in pieno svolgimento la campagna vaccinale contro l'influenza stagionale e contro il Covid. Mentre per l'influenza si stanno raggiungendo percentuali soddisfacenti, ma ancora non quelle auspicate, la vaccinazione contro il Covid invece ancora ha percentuali molto basse. Di contro però stanno aumentando i ricoveri. Normalmente chi si ricovera sono persone anziane, persone fragili, che hanno patologie, concomitanti. Quindi questa è la popolazione più a rischio di sviluppare forme gravi, forme complicate. Però giustamente, come diceva lei, il dato preoccupante è che i ricoveri stanno crescendo numericamente. Qual è l'appello che viene fatto? Quali sono le informazioni che vi preme diffondere? Perché ovviamente anche in questo senso, forse ancora ci sono un po' di resistenze nel fare il vaccino Covid e influenza. Il vaccino è quello che attualmente stiamo facendo, è un vaccino nuovo per le nuove varianti che stanno circolando adesso, quindi è importantissimo farlo. Si può fare insieme, contemporaneamente, in tutta sicurezza con il vaccino antinfluenzale o a qualunque distanza da questo, indipendentemente dal numero delle dosi già ricevute prima, basta che siano passati sei mesi dall'ultima dose oppure da una precedente infezione. Come si può chiedere di fare questo vaccino? Come si può anche prenotare? I vaccini possono essere fatti dal proprio medico curante, dal proprio pediatra di libera scelta, nelle farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale se si ha più di 60 anni oppure nei nostri centri aziendali, dove si può prenotare sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it Ovviamente c'è da ricordare che non c'è obbligo, però ecco, come lei giustamente ricordava, chi ha comunque una persona fragile nei suoi contatti, ecco, anche familiari, anche se non è un operatore sanitario piuttosto che di una RSA, è comunque consigliabile. Sì, assolutamente, è un dovere morale, diciamo, anche una convivenza civile quello di vaccinarsi per proteggere gli altri, per bloccare la circolazione virale e quindi tutelare la collettività. Torniamo adesso a parlare della stazione Alta Velocità Medio Etruria. La politica retina dopo la scelta di Creti è giunta al minimo storico, ha dichiarato Gianni Olivelli, segretario provinciale di Italia Viva. La scelta della stazione prosegue, non è la location, è un'opera che deve essere assolutamente fatta, ma va inquadrata in una prospettiva dei prossimi 30 anni. Attorno a quella stazione ci devono essere una serie di opere accessorie, come quelle che contraddistinguono la stazione Alta Velocità Media Padana, opere che servono a modificare il peso socio-economico e la mobilità di quel territorio. Ed è intervenuta sulla questione anche la segretaria del coordinamento territoriale PD Arezzo, Barbara Croci. Sulla vicenda dell'alta velocità mi pare si stia facendo tanta confusione politica, un modo per banalizzare più che valutare soluzioni e responsabilità. Fondamentale, conclude adesso trovare un terreno comune di confronto tra forze politiche diverse per arrivare ad una soluzione che non penalizzi Arezzo e il suo territorio. Voltiamo nuovamente pagina, oggi la prima neve è arrivata anche nel retino in Prato Magno, come mostrano queste immagini immortalate dall'omonimo profilo Facebook che da anni racconta la bellezza della montagna che divide il Valdarno dal Casentino. La neve è caduta copiosa in zona croce. Indeciso calo poi anche le temperature come previsto dalle previsioni. Torniamo in città, ad Arezzo, questa mattina al liceo scientifico Redi, un nuovo appuntamento con la scuola di educazione civica. Nell'aula Magna a parlare con gli studenti il giornalista Claudio Repec. Cosa vorrebbe che rimanesse di questa mattinata? La voglia di capire e la voglia di studiare. La politica oggi è sostanzialmente priva di questi elementi. Se una nuova politica ha da essere non può che partire dallo studio e dalla storia. È stato Claudio Repec, giornalista retino, il relatore dell'ennesimo incontro di educazione civica nelle scuole organizzato dall'Associazione Intratevere Tarno. Nella sua lezione agli studenti del liceo scientifico Francesco Redi di Arezzo ha ripercorso 35 anni di storia retina dal 1985 al 2020. Gli stessi che sono stati sintetizzati nel suo ultimo libro Ombre Rosse che ha ricostruito il passaggio in terra a retina dal centro-sinistra al centro-destra. Il mio tentativo è di raccontarlo attraverso due passaggi. Il primo è quello dei sindaci dagli anni 80 agli anni 20 del nuovo millennio. Quindi da Ducci a Ghinelli. Il secondo è l'alternarsi delle due maggiori... cioè dopo l'esperienza delle giunte di sinistra degli anni 80 intanto all'alternarsi delle due coalizioni centro-sinistra e centro-destra e adesso la stabilizzazione del centro-destra. Siamo quasi a metà del secondo anno di questo percorso di educazione civica. La speranza è sempre la stessa. Fare in modo che i ragazzi si interessino alla cosa pubblica e siano sempre meno attratti dalle tante sirene che spuntano dai loro smartphone. Lo smartphone è il concentrato delle bugie, secondo me. Bisogna dire la verità, semplicemente raccontare le cose per come sono, con un linguaggio semplice, più semplice possibile, dando la sensazione di essere competenti in quello che si dice. Chi si arroga il diritto, la presunzione, di fare lezioni di educazione civica ai ragazzi, molti di noi, io tra questi, deve poi nella sua vita aver già dimostrato e continuare a dimostrare che crede in quello che fa e lo mette in pratica, altrimenti è la voce di colui che grida nel deserto, inutile. Continua questa marcia, insomma, dell'educazione civica nelle scuole. Il prossimo appuntamento quale sarà? Il prossimo appuntamento è il 18 dicembre con il dottor Rossi Pierluigi, il quale praticamente è una voce molto importante per questa scuola perché parlerà di sostenibilità, perché le tre macro aree, come ho già detto, sono la Costituzione, che è sempre trattata molto, la seconda macro area è la sostenibilità, che finora non ha avuto mai nessun relatore, e lui parlerà di medicina e agricoltura come due scienze per la vita, quindi probabilmente parlerà dell'atto alimentare come atto ambientale. Ed è rivolto ai più giovani anche l'appuntamento in programma martedì 12 dicembre alle 16 all'Informa Giovani di Piazza Sant'Agostino, con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, organizzato dalla Federazione Alimentazione di Confartigianato Imprese, dal titolo Il lavoro che c'è, le opportunità nel mondo del food, rivolto ai giovani che intendono costruirsi un percorso nell'ambito della ristorazione o della produzione alimentare. Verrà predisposta anche una scheda di registrazione per i presenti, in modo che possano essere ricontattati nel caso volessero avere un colloquio con un imprenditore del settore per saperne di più. Si parlerà invece di Israele e Palestina nel corso dell'incontro promosso dalle ACLI di Arezzo in programma domani sera. Una serata per indagare le origini del conflitto israelo-palestinese tra passato e presente. Israele e la Palestina, le radici di un dramma, il titolo dell'incontro promosso dalle ACLI di Arezzo. L'appuntamento è in programma alle 21 del 6 dicembre all'auditorium Aldo Ducci ad Arezzo. L'appuntamento riguarda un approfondimento sui temi della pace di questi nostri tempi, soprattutto la Palestina, verrà ad Arezzo Fulvio Scaglione che è stato per anni redattore di Famiglia Cristiana e esperto delle questioni palestinesi in quanto ha vissuto giornalisticamente le vicende della Palestina per diverso tempo. Si svolgerà nella sala Montetini del Comune, in piazza del Comune di Arezzo, il 6 dicembre alle ore 21. Tutto pronto per la seconda edizione dell'Arezzo Science Lab con grandissimi ospiti internazionali. Dal premio Nobel Giorgio Parisi a Stefano Mancuso ed ancora Gabriella Grayson e Massimo Cacciari sono loro alcuni dei protagonisti della seconda stagione di Arezzo Science Lab. Il festival che quest'anno aumenta il numero di spettacoli ma con un format invariato. Un evento al mese è la formula della lezione spettacolo teatrale. Si tratta di intellettuali di grandissimo valore. Il punto fondamentale è questo che oggi non c'è più distinzione netta perlomeno tra cultura scientifica e cultura umanistica ma la cultura si dispiega a 360 gradi comprendendo sia il lato umanistico che il lato scientifico e tecnologico e questo è quanto serve sia nel mondo del lavoro sia nel nostro paese. Si parte il 10 dicembre al Circo L'Artistico. Avremo veramente un grande ospite internazionale perché verrà ad Arezzo Carl Safina alle 17.30 presso il Circo L'Artistico. Safina è uno dei più importanti biologi marini a livello internazionale, pluripremiato in tutto il mondo. si occupa di tutela degli oceani, di tutela dell'ambiente e tema quello appunto del cambiamento climatico del dover essere più green della nostra società di stringente attualità come purtroppo abbiamo anche recentemente visto per cui un'apertura che abbiamo fortemente voluto portando ad Arezzo appunto un grande ospite a livello internazionale. Poi avremo un calendario ricchissimo perché parleremo di neurobiologia, di fisica, di astrofisica, di medicina e verranno a trovarci Giorgio Valle Ortigara, Massimo Cacciari, Aldo Cazzullo, Michele Punturo, Andrea Rinaldo, Paolo Ferri e Silvia Bencibelli. È tutto pronto anche per il Festival della Magia Città di Arezzo che sabato 9 dicembre offrirà un doppio spettacolo rispettivamente alle 17.30 e alle 21 al Teatro Petrarca. Uno show della magia con artisti di fama internazionale per affascinare, stupire e divertire grandi e piccini. Divertimento dunque ma anche solidarietà. L'incasso infatti sarà devoluto a Casa Tevenin, l'istituto aretino che da oltre 150 anni accoglie donne e madri minori in situazione di difficoltà. Ed in città fino al prossimo 5 gennaio torna anche l'appuntamento con la vendita di libri alla biblioteca Città di Arezzo ad un prezzo simbolico, un euro. Tanti volumi per adulti, ragazzi e bambini in un autentico mercatino di Natale della letteratura e della saggistica. E adesso parliamo di Giostra della Zaracino. Lo scorso fine settimana il cielo dedicato da Porta Santo Spirito alla Madonna del Conforto nel 1996 è tornato al quartiere. Nel 1996 erano 12 anni che il quartiere non vinceva e fu il rettore Paolo Pratesi insieme al Consiglio insieme ad alcuni consiglieri ebbero l'intuito o il pensiero di portare un cielo alla Madonna a vedere se faceva il miracolo di ritornare alla vittoria dopo 12 anni. E questa cosa per fortuna avvenne. È tornato al quartiere di Porta Santo Spirito il Cero del 1996. Era infatti il primo settembre quando i gialloblu vinsero la lancia d'oro interrompendo così un digiuno lungo 12 anni grazie ai due giostratori dell'epoca Gianni Vignoli e Pier Giovanni Capacci. Fece i quattro compagno fece tre ma ruppe la lancia e quindi con sei punti lui e quattro io dici punti vincemo la lancia. Io ero il suo allenatore fin da piccino e tanto è una vittoria che un pochino mi appartiene anche. A realizzare il Cero dedicato alla Madonna del Conforto è custodito sino ad adesso in Duomo l'artista Rita Rossellaciani. Questo è stato il primo Cero dedicato alla giostra del Saracino dedicato al quartiere e soprattutto per la giostra. Dal gennaio dell'anno successivo 1997 il Comune ha istituito la cerimonia dei Ceri al Beato Grigorio X in cui si portano i Ceri e tra l'altro sempre fatti da questa artista senese Rita Rossellaciani. Però sono in dimensioni più piccole questo purtroppo si è rotto Don Alvaro ce l'ha riregalato e a quel punto mi è venuto a mente a me di fare una specie di festa diciamo c'è questo ritorno celebrare questo ritorno del Cero al museo invitare tutti quelli che sono i fantini i quartieristi dell'epoca i consiglieri, il rettore, il capitano chi ha vissuto quel famoso primo settembre 1996 e come vedete la sala è piena e il successo veramente sono orgoglioso di questa cosa. Passiamo alla pagina dello sport Gabriele Gambini e Gabriele Mealli della Chimera Nuoto sono scesi in vasca ai campionati italiani assoluti i due nuotatori a retini hanno vissuto l'emozione di competere nella massima manifestazione natatoria nazionale che a Riccione ha riunito i migliori atleti della penisola andando così a coronare una stagione particolarmente ricca di soddisfazioni e risultati positivi la squadra della Chimera Nuoto nel frattempo ha debuttato nella Fiorentina Tavarnuzze nella prima prova invernale valida come qualificazione ai prossimi campionati regionali ottenendo sette primi posti sei secondi posti e cinque terzi posti questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci di Grazie a tutti.